salita al monte carmelo modo per arrivare al tutto per arrivare a quello che non sai devi andare per dove non sai per arrivare a quello che ora non ti piace devi andare per dove non ti piace per arrivare a quel che non possiedi devi andare per dove non ti piace per arrivare a quello che non sai devi andare per dove non sai modo per avere il tutto per arrivare a sapere tutto, non voler sapere nulla in nulla. Per arrivare a godere tutto, non voler godere nulla in nulla. Per arrivare a possedere tutto, non voler possedere nulla in nulla. Per arrivare a essere tutto, non voler essere nulla in nulla. Modo per non ostacolare il tutto. Quando ripari in qualcosa, tu cessi di tendere al tutto, poiché per giungere del tutto al tutto, devi lasciare del tutto il tutto. E quando tu giunga tutto ad avere, tu devi averlo senza nulla volere, poiché se in tutto vuoi aver qualcosa, non hai puro in Dio il tuo tesoro. Questa era una poesia di San Juan de la Cruz, nella traduzione di Cristina Campo, da La tigre assenza. San Juan de la Cruz, Giovanni della Croce, è nato nel 1542 ed è morto nel 1591. È stato un presbitero e santo spagnolo, cofondatore dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. I suoi scritti furono pubblicati per la prima volta nel 1618. Fu beatificato nel 1675, proclamato santo da Benedetto XIII nel 1726. È stato anche dichiarato dottore della chiesa da Pio XI nel 1926. La chiesa cattolica lo ha definito doctor mysticus, dottore mistico, maestro della mistica, mentre la chiesa anglicana lo venera come un maestro della fede. Giovanni della Croce è considerato uno dei maggiori poeti in lingua spagnola. Ciò che meglio definisce la sua poesia è l'intensità espressiva, grazie all'andamento e all'equilibrio di ognuna delle immagini da lui adoperate. A ciò contribuisce anche la sua tendenza ad abbandonare il registro discorsivo, eliminando espressioni neutre, per cercare costantemente una giusta posizione tra elementi poetici di grande plasticità. Buon intervallo a tutti da Antonio Silvestri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.